L'Urea Breast Test è un esame semplice, non invasivo, di grande accuratezza diagnostica, ampiamente utilizzato in gastroenterologia e considerato un esame di prima scelta per la diagnosi dell'infezione gastrica dell'elicobacter pylori. L'elicobacter pylori è un batterio in grado di resistere e sopravvivere molto bene nell'ambiente acido del nostro stomaco, dove aderisce alla mucosa gastrica danneggiata, provocando infiammazione cronica, ossia la cosiddetta gastrite. In alcuni soggetti la gastrite può rimanere pressoché asintomatica, mentre in altri casi si manifesta con dolore o fastidio localizzato in regione epigastrica, oppure si accusa cattiva digestione o un eccessivo senso di pienezza postrandiale. L'elicobacter pylori può causare inoltre ulcera gastrica, ulcera duerenale e in alcuni pazienti predisposti un linfoma gastrico a bassa malinità, ma è anche un noto fattore di rischio per l'insorgenza del tumore dello stomaco. L'esame dell'Urea Breast Test consiste nella raccolta di un primo campione di aria polmonare ispirata al tempo zero e a digiuno, successivamente viene somministrata una bevanda contenente acido citrico e urea marcata con un isotopo non radioattivo e stabile del carbonio del carbonio 13 e dopo circa 30 minuti viene raccolto un secondo campionamento. Qual è il principio alla base dell'Urea Breast Test? L'elicobacter pylori è un batterio capace di produrre l'ureasi. L'ureasi è un enzima che a livello gastrico scinde l'urea liberando ammoniaca e bicarbonato, ossia anche amitide carbonica. Questa viene assorbita dalle pareti gastriche e quindi poi veicolata dal sangue raggiunge i polmoni attraverso i quali viene eliminata attraverso l'espiro. Nel paziente con infezione dell'icobacter pylori, la CO2 che viene espirata e che è marcata con carbonio 13, dopo 30 minuti dall'assunzione del substrato, sarà superiore a quella espirata da un paziente sano. Perché? Perché il paziente sano non è infettato dell'icobacter pylori, quindi non ha ureasi all'interno del suo stomaco. Per cui l'urea che viene somministrata per via orale, viene assorbita da tuboli renali e poi eliminata attraverso le urine. Questo test viene effettuato dopo un digiuno di almeno 6 ore da solidi e liquidi. Anche questo prevede una preparazione da parte del paziente. Non bisogna assumere antibiotici nel mese precedente del test, né farmaci gastroprotettori, inibitori di pompa protonica, ad esempio contenenti omeprazolo, pantoprazolo, lansoprazolo, nei 7 giorni che precedono il test, in quanto possono dare dei falsi negativi. Farmaci gastroprotettori a base di ranitidina o similari sono ammessi ma solo se estrettamente necessario. I farmaci antiacidi possono invece essere assunti fino al giorno precedente il test. Il giorno dell'esame il paziente può continuare ad assumere farmaci salvavita, ossia quelli per cuore e pressione. Durante il test, che ha una durata di soli 30 minuti, il paziente deve rimanere a digiuno da solidi e liquidi, non deve fumare, né dormire, né fare attività fisica, insomma deve rimanere a riposo. Il paziente deve informare, il medico si assume farmaci anticolinergici, narcotici e procinetici. Il campione viene analizzato attraverso un sofisticato strumento, che è uno spettrometro di massa, che dosa il campione in modo sensibile, accurato e rapido. Infatti ha una sensibilità prossima al 97% e una specificità del 100%. Quando un paziente risulta positivo a questo esame è fortemente consigliato che anche i conviventi eseguano lo stesso test, perché c'è un'alta probabilità che anche i conviventi possano essere positivi. Il CEMAD è dal 2017 il centro coordinatore di un registro nazionale ed europeo relativo al trattamento dell'infezione di alicobacter filori. Esso consiste nella raccolta di analisi e dati relativi alla prevalenza di questa infezione nelle diverse aree geografiche italiane ed europee, alle terapie prescritte dagli specialisti, agli esiti di queste terapie e trattamenti e alle caratteristiche dei diversi pazienti. L'acido tanoico breath test è un esame che permette lo studio del tempo di svuotamento gastrico da cibi solidi. Uno svuotamento gastrico anomalo è tra i fattori che contribuiscono a distrea, allo sviluppo di sintomi post-strandiali come nausea, flatulenza, sazietà precoce, eccessivo senso di pienezza post-strandiale e molti studi hanno mostrato che ad esempio pazienti obesi o pazienti con diabete mellito hanno un tempo di svuotamento gastrico molto rallentato. Il breath test all'acido tanoico è un metodo non invasivo, valido, affidabile e alternativo alla radioscientigrafia il cui principale vantaggio è quello di utilizzare dei substrati non radiattivi che quindi lo rendono estremamente facile da eseguire e totalmente sicuro anche nella fascia pediatrica dalle persone anziane e da donne in gravidanza. L'acido tanoico breath test si basa sulla misura della nitide carbonica marcata con carbonio 13 nell'estirato dopo la somministrazione di un pasto standard. Questo pasto contiene un acido grasso presente normalmente in diversi prodotti alimentari e questo substrato è marcato con l'isodoco non radiattivo e stabile del carbonio sia il carbonio 13 che viene assorbito dal duodeno trasportato dal sangue verso il fegato dove viene poi rapidamente ossidato la nitide carbonica marcata che viene immessa nel sistema circolatorio e successivamente eliminata attraverso il respiro. Anche questo test prevede una preparazione da parte del paziente molto semplice. La sera precedente è possibile cenare con un pasto molto leggero. Il giorno del test il paziente può continuare ad assumere i farmici salvavita come quelli per cuore e pressione. Eventuale uso di anticolinergici, narcotici e procinetici deve essere riferito al personale. Infine il paziente deve presentarsi a digiuno da un minimo di 8-10 ore da solidi e liquidi. Non deve fumare, non deve dormire né fare esercizio fisico da almeno 30 minuti prima dell'inizio del test fino alla sua conclusione.